Per esempio la Ramblas che è una delle strade più note e famose di Barcellona e le spazzature si dice si cambiano 16 volte al giorno e sono sempre piene, sono sempre piene, cioè è una cosa folle perché c'è questo uso massiccio dello spazio pubblico continuo e poi quando arrivano queste grosse navi, la crociera, quello già diventa come un'invasione. Proprio i cittadini hanno questa sensazione di invasione in quel momento e quindi c'è un problema come dico di gestione che non è soltanto il prezzo della casa, è una questione anche di identità, di vita nella città, di problemi di sicurezza, di pulizia e tutto questo viene pagato con soldi pubblici, con le risorse pubbliche e bisognava cambiare il paradigma. La puntata di Globo di oggi ha un ospite speciale. È Ada Colau che è stata sindaca di Barcellona dal 2015 al 2023. Immagino che tutti voi sappiate chi è Ada Colau. Cominciò la sua carriera politica come attivista per il diritto alla casa. Fino a diventare leader di Barcellona en Comú, un movimento di sinistra che in maniera inaspettata vinse le elezioni comunali a Barcellona nel 2015. Da allora Ada Colau non è soltanto diventata sindaca di una delle città più importanti e visibili d'Europa. È diventata anche un simbolo per il suo stile amministrativo e le sue politiche audaci. Ada Colau è inoltre una delle rappresentanti più in vista di un movimento di amministratori e amministratrici di sinistra che qualche anno fa ha cercato di cambiare il modo in cui si governa una città. Tra le altre cose, l'amministrazione di Ada Colau ha fatto da apripista in Europa nelle misure contro l'iperturismo, cioè contro gli eccessi del turismo di massa. Ne abbiamo parlato, peraltro, anche qualche mese fa a Globo. Se volete, riprendetevi quella puntata. È interessante. Oggi si parla moltissimo di iperturismo anche in Italia, ma Ada Colau ha cominciato a occuparsene anni prima che noi cominciassimo a capire anche soltanto di cosa si trattava. Insomma, negli ultimi dieci anni, poche sindache in Europa sono stati influenti come Ada Colau. Come sentirete, Colau ha molte cose da dire a proposito di Barcellona, a proposito dell'iperturismo, a proposito della sinistra e perfino a proposito di Donald Trump. Questa è una conversazione intensa, che dà molto da riflettere. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Ada Colau, benvenuta. Grazie. Comincerei parlando di Barcellona, della città di cui sei stata sindaca dal 2015 al 2023 per due mandati consecutivi. Ora, quando si parla di Barcellona si pensa ovviamente a tantissime cose. Ma quando si parla dell'evoluzione di Barcellona, la prima cosa a cui si pensa molto spesso sono le Olimpiadi del 1992. Quando Barcellona ospitò appunto i giochi olimpici e seppe usare l'opportunità e la visibilità e i finanziamenti, gli investimenti portati dai giochi per diventare una delle città di maggior successo in Europa, a livello di attrazione di turisti, a livello di reputazione e così via. Peraltro questa cosa di usare le Olimpiadi come trampolino, diciamo così, poi hanno provato a farla tante altre città in tutto il mondo, molto spesso fallendo. Per cui molto spesso si parla di un modello Barcellona, miracolo Barcellona addirittura. Ora, io so che tu hai delle critiche nei confronti di questo miracolo Barcellona. Però anzitutto vorrei chiederti se puoi raccontarci dal tuo punto di vista di persona che è nata e cresciuta a Barcellona e poi è diventata sindaca della città, di raccontarci che cos'è stato questo miracolo, tra virgolette, barcellonese. Bene, prima di tutto sono molto felice di essere qua e chiedo scusa perché il mio italiano è peggiorato, perché è da anni che non lo parlo tanto, quindi chiedo scusa se uso delle parole sbagliate. Però io ci provo. Allora, sì, io mi ricordo bene, nel 92 avevo 18 anni ed è stata la prima volta che sono stata in Italia con un interrail. Ho girato l'Italia per tutto un mese e mi ricordo che mi videvo ai 18 anni le Olimpiadi, no? Come un fenomeno straordinario, perché è un fenomeno straordinario nella città, che in effetti si era gestito abbastanza bene perché si era approfittato, no? Perché per il sindaco più bravo che c'è stato a Barcellona, secondo me questo è un grande consenso, no? Pasquale Maragalli, il sindaco di quel periodo lì, e che è stato molto bravo a creare dei consensi per fare delle grandi trasformazioni che da tanto bisognava fare e che una città sempre fa fatica perché dipende dai fondi che di solito sono nelle mani dello Stato, no? Che concentra la maggior parte dei fondi pubblici. E quindi davvero è stato bravo Pasquale Maragalli e quella giunta lì a fare quella gestione lì. Invece però ci sono state delle occasioni perdute anche, no? In quel miracolo lì, per esempio, uno degli argomenti in cui non hanno pensato è l'argomento del diritto alla casa. Si sono fatte delle grandi, enormi infrastrutture, si è recuperato il mare, le spiagge, che è stato un intervento straordinario. Si sono fatte delle autovie importantissime, dei quartieri nuovi addirittura, no? Però non si sono fatte le case popolari, le case pubbliche, no? Come invece ha fatto Vienna e tante altre città del nord dell'Europa. Quindi una delle occasioni perdute in questo miracolo è stata proprio quella con l'argomento della casa, no? Che poi la città ne ha subito tantissimo. E poi un altro argomento è che in effetti in quel momento lì aveva tutto il senso proiettare la città a livello internazionale e dire al mondo che siamo una città aperta, cosmopolita e che ci piace, che la gente venga a trovarci. Questo continua ad essere verità oggi. Però si è creato un sistema di gestione di questa dimensione internazionale e della dimensione turistica della città in cui si è lasciato all'iniziativa privata la gestione del modello. E questo ha creato delle conseguenze che poi abbiamo subito con il passo dei decenni e che ha portato alla città nel 2015 quando io sono arrivata a fare la sindaca dove c'era una crisi propria e vera, una crisi del turismo dove i cittadini avevano la percezione che il turismo era più un problema che un'opportunità o un guadagno per la città perché proprio c'erano tanti conflitti non soltanto l'impatto nel prezzo delle case degli appartamenti per migliaia di appartamenti turistici illegali che creavano anche problemi di convivenza molto forti soprattutto nei quartieri più centrali e quindi questa percezione di invasione turistica che mi ha costretto tanti cittadini ad allontanarsi della propria città perché non potevano pagare la casa o addirittura perché la vita proprio quotidiana non era possibile nei quartieri più centrali. Una cosa molto carina da spiegare è che all'inizio, quando abbiamo iniziato nel 2015-2016 abbiamo fatto anche un sondaggio sui turisti, nei turisti e abbiamo fatto migliaia di interviste ai turisti ci hanno detto che l'esperienza a Barcellona era stata molto positiva e la nota che davano alla città era tra un 8 e un 9 su 10 quindi molto positiva però quando abbiamo chiesto cosa era la cosa che gli era piaciuta di meno dicevano il turismo quindi i turisti e i residenti erano d'accordo in realtà c'era un problema da gestire e lasciando la gestione solo all'iniziativa privata non andava bene e bisognava riprendersi una leadership pubblica collettiva per decidere che modello di turismo aveva bisogno Barcellona o quanto turismo reggeva la città questi sono due argomenti secondo me che vengono da quel periodo lì dove insisto tante cose sono state ben fatte in quel momento del 92 però ci sono state delle occasioni perdute anche come modello di gestione del turismo come la questione dell'abitare che dopo sono le questioni che noi abbiamo dovuto gestire interrompo un attimo questa conversazione per ricordarvi che a partire da gennaio 2025 quindi fra poco più di un mese e mezzo Globo diventerà parte dell'offerta per le abbonate e gli abbonati del post oggi la faccio breve abbiamo ancora varie settimane per raccontarvi come funziona questo cambiamento però ecco la versione rapida da cinque anni il post riesce a garantire un progetto di giornalismo affidabile e libero grazie al sostegno delle persone che si abbonano grazie ad abbonate ed abbonati riusciamo a fare quello che facciamo e il punto è che oggi vogliamo fare ancora di più per questo abbiamo pensato di ampliare l'offerta per chi decide di abbonarsi aggiungendo anche i podcast settimanali per fare in modo che chi si abbona abbia una ragione in più per farlo e chi è già abbonato si senta parte di un progetto sempre più ricco l'abbonamento al post costa 8 euro al mese oppure 80 euro all'anno è un cappuccino a settimana se Globo vi piace e decidete di abbonarvi scrivetemi alla mail globo-alpost.it ci renderà felici mi renderà felice personalmente e ci aiuterà a capire che il progetto funziona Concentriamoci su questa seconda parte quella del turismo o meglio ancora dell'iperturismo dell'eccessiva turisticizzazione delle città in particolare di Barcellona tu sei diventata sindaca nel 2015 in elezioni che furono piuttosto sorprendenti tu eri al tempo la portavoce e il volto pubblico della Plataforma di Affectados per l'ipoteca che era questa associazione piattaforma delle vittime dei mutui che era un'associazione creata per aiutare le persone che rischiavano di essere sfrattate per via della crisi immobiliare che c'era in quel periodo anche per queste ragioni appunto ce l'hai già detto ti sei concentrata molto su il diritto alla casa e sulla questione degli affitti brevi anzitutto vorrei chiederti poi arriveremo a raccontare un po' ce l'hai già raccontato però vorrei chiederti più nello specifico poi arriveremo a raccontare anche le misure cosa si è fatto quali norme sono state adottate però anzitutto che cosa ha fatto l'iperturismo a Barcellona quali sono state le conseguenze dell'iperturismo su Barcellona che sono conseguenze che immagino si possano riprodurre in tante altre città nel mondo però Barcellona è stata la prepista sia dal punto di vista delle misure ma anche dal punto di vista degli effetti perché nel 2015 quando tu eri sindaca di iperturismo in Italia non si parlava a Barcellona invece era una cosa già molto viva molto viva sì era un dibattito in città c'erano tanti cittadini arrabbiati proprio con questa sensazione di ci stanno rubando la città ma non le persone concrete che vengano a visitare la città perché non è un problema di razzismo contro le persone che viaggiano il problema era la gestione è il business del turismo dove c'erano dei grandi operatori che usavano la città come una piattaforma dove fare grossi guadagni e però non si responsabilizzavano delle conseguenze perché pensa che il turismo di massa l'iperturismo crea tante conseguenze prima ne dicevo la più ovvia è quella dei prezzi degli affitti se non c'è una regola che crea i limiti che quando noi siamo arrivati non c'era nessuna regola di nessun tipo l'abbiamo creata noi da sempre più profitto più guadagno avere un appartamento per turisti che per residenti e quindi quelli che vogliono fare il massimo business possibile e non pensano il diritto alla casa fanno gli appartamenti per turisti e quindi in pochissimo tempo si sono fatti migliaia e migliaia di appartamenti per turisti e questo vuol dire meno affitti per residenti e quindi hanno salito ancora di più i prezzi quindi gentrification che non solo ha un impatto nella questione della casa ma anche del commercio locale non hai più il panificio non hai più il piccolo negozio dove fare la spesa per la vita quotidiana perché sono tutti locali per i turisti poi questo cosa vuol dire anche è un impatto nell'identità della città nell'anima della città perché la città perde la vita quotidiana che è il valore massimo di una città la città non sono le strade le piazze i musei i palazzi importanti tutto questo non ha senso è soltanto un marchio però se non ci sono le persone che vivono lì non puoi parlare di città la definizione di città è la vita in comune dei cittadini e quindi se non ci sono i cittadini non c'è la vita quotidiana non c'è più la città e a Barcellona c'era questa sensazione che stava perdendo proprio l'identità l'anima soprattutto nei quartieri più centrali e poi anche problemi di sicurezza perché quando c'è un iperturismo arrivano anche le mafie che vivono il turismo e quindi problemi di delinquenza elevati problemi anche di pulizia nei quartieri più centrali per esempio la Ramblas che è una delle strade più note famose di Barcellona le spazzature si dice si cambiano 16 volte al giorno e sono sempre piene sono sempre piene cioè è una è una cosa folle perché c'è questo uso massiccio dello spazio pubblico continuo e poi quando arrivano queste grosse navi la crociera quello già diventa come un'invasione cioè i propri cittadini hanno questa sensazione di invasione in quel momento e quindi c'è un problema come dico di gestione che non è soltanto il prezzo della casa è una questione anche di identità di vita nella città di problemi di sicurezza di pulizia e tutto questo viene pagato con soldi pubblici con le risorse pubbliche e bisognava cambiare il paradigma e fare un discorso di qui bisogna corresponsabilizzare a quelli che hanno fatto un grande business nella nostra città con questa cosa del turismo però fino a quel momento non avevano non avevano accettato nessuna delle conseguenze né della responsabilità su queste conseguenze mi sono tirato giù un po' di numeri nel 1990 Barcellona che è una città che ha un milione e seicentomila abitanti più o meno nel 1990 aveva un milione e settecentomila turisti all'anno quindi una quantità più o meno paragonabile alla popolazione nel 2023 ne aveva più di dodici milioni e questo non è nemmeno il picco perché il picco era prima della pandemia quando nel 2019 ne aveva avuti più di quattordici milioni secondo te i turisti a Barcellona sono troppi? e pensa devo aggiungere ancora un'altra informazione che Barcellona è una città che è costruita come un anfiteatro tra la montagna e il mare e quindi è una delle città più dense di tutta l'Europa quindi non soltanto parli di quei milioni lì parli in una città che è delle più dense dove ogni metro quadro è sempre una questione di disputa nella nostra città perché manca sempre lo spazio per fare tante cose quindi in una città così densa tutti questi milioni e ovviamente non è sostenibile non è sostenibile è ovvio che non è facile la soluzione perché dici cosa fai metti il checkpoint all'ingresso della città e dici solo un tot di turisti al giorno e poi chiudi la città è impossibile perché poi non ci piace come modello ci piace insisto essere una città aperta e cosmopolita però lì devi incidere nel modello di città e per esempio cosa puoi regolare puoi regolare quanti alberghi ci sono in città in quali quartieri sono questi alberghi e magari non si devono fare più alberghi nella nostra città perché ci sono altre città e devi fare una visione anche metropolitana di regione metropolitana di questo turismo e quindi le persone che vengono anche per fare un congresso per fare altre attività possono non necessariamente devono dormire nel centro città perché poi siamo una città che per fortuna abbiamo un trasporto pubblico di primo livello quindi ti puoi muovere perfettamente con il trasporto pubblico con la metropolitana con l'autobus con la bicicletta quindi non c'è bisogno che dormano tutti nel centro della città è qui che devi parlare di gestione che non si era mai fatto finché siamo arrivati noi e quindi fare un piano regolatore come abbiamo fatto noi per dire non si fanno più alberghi in centro città anzi quando chiude un albergo non si apre uno di nuovo per diminuire per decrescere e sì è accettare che in alcune attività bisogna introdurre questo concetto della decrescita e non avere paura di questo concetto perché proprio un'economia forte e sostenibile per esempio è un'economia diversificata un altro impatto negativo di questo modello non ordinato che abbiamo trovato noi del turismo c'era una dipendenza troppo forte dell'economia della città del turismo e questo poi in pandemia si è visto che era una debolezza della nostra città e poi Barcellona ha tantissima potenzialità con la cultura con la tecnologia con le università i centri di ricerca di primo livello che abbiamo e quindi non aveva senso avere una dipendenza così forte nell'economia di un settore che prima cosa dipendi da altri che vengono a vederti quindi se non vengono più per esempio in una situazione di pandemia hai un crollo economico però in più è un'attività economica che crea dei posti di lavori molto precari mal pagati quindi non è un'economia di valore aggiunto come si lo sono per esempio la tecnologia o l'università la ricerca o la cultura e quindi secondo me c'erano tante ragioni per regolare e diminuire questa attività e questo lo puoi fare per esempio nelle competenze concrete di una città con un piano regolatore urbanistico che dice bisogna chiudere gli appartamenti turistici legali o non si possono fare più alberghi nei quartieri centrali quindi insomma erano troppi questi turisti sono troppi questi turisti e si vede che sono troppi perché i cittadini così lo dicono anche si esprimono in questo senso e gli effetti negativi in città negli ultimi anni sono stati chiari quindi insisto il problema non è il turismo non sono le persone concrete che vengono a Barcellona questo è molto importante dirlo perché ci piace che venga la gente a incontrarci a Barcellona ci piace essere una città aperta però questo modello di promuovere la città come una città di sole spiaggia e la festa come hanno fatto alcuni operatori internazionali di vendere un po' la nostra città nel mercato come una città dove venire pochi giorni a fare la festa e no questo non va bene ci ha creato dei grandi problemi sì il nuovo sindaco di Barcellona il suo successore Jaume Colboni ha promesso che la città entro il 2028 interromperà tutti gli affitti brevi eliminerà tutti gli affitti brevi è plausibile? in realtà il Boni è del partito socialista che aveva governato il comune per decenni prima che arrivassimo noi e loro si erano rifiutati di intervenire sempre nel mercato privato finché siamo arrivati noi abbiamo dimostrato che non solo si poteva fare ma che bisognava farlo questo ha creato un nuovo consenso in città e quindi secondo me un buon segnale che adesso che c'è un sindaco del partito socialista non può fare come prima di dire che non si può intervenire ma adesso accetta che effettivamente qualche intervento bisogna fare quindi questo è un cambiamento di cultura che è importante perché vuol dire che è cambiato il consenso in città e che indipendentemente di chi governa questa questione non si può trattare come si faceva prima però la questione degli affitti brevi è complessa perché noi l'intervento l'abbiamo fatto sul concetto appartamento di affitto per turisti cosa succede? che siccome il business è talmente enorme i grandi operatori insistono non i piccoli proprietari i grandi operatori trovano sempre il modo di inventare un concetto nuovo per di nuovo riproporre la stessa cosa e quindi tu devi stare sempre lì molto sveglio e molto attento come amministrazione pubblica per reagire alle innovazioni che fanno questi grandi operatori e in effetti noi abbiamo fatto questo intervento di dire non si possono fare più gli affitti per turisti però hanno creato questo nuovo concetto in spagnolo si dice al killer di temporada che sarebbe un nuovo tipo di affitto breve e quindi bisogna fare una nuova regolamentazione però che non la può fare solo il comune e quindi stiamo lì a parlare con il governo della regione si è fatta molta incidenza e pressione anche con i movimenti sociali e finalmente siamo riusciti a fare questa legge che consente ai comuni quindi questa non è un'iniziativa dei coglioni ma è una legge che siamo riusciti a fare nel governo della regione con la pressione sociale per dare l'opportunità a qualsiasi comune della Catalogna di finire con tutti gli appartamenti turistici nel 2028 di nuovo dipende della volontà politica che ci sia in ogni governo di ogni comune se c'è uno che non vuole applicare la legge non la applicherà se invece esiste un consenso e una pressione sociale in quella città come esiste adesso a Barcellona il sindaco è costretto diciamo a applicare questa legge perché in città c'è un malessere chiarissimo con questo argomento Ovviamente quando si parla di regolamentazione del turismo e soprattutto dell'iperturismo bisogna sempre anche parlare di un equilibrio nel senso che e un po' ce l'hai già raccontato l'iperturismo può essere un problema ma al tempo stesso è un business porta ricchezza ed è vero che c'è una larga parte di speculazione e di grossi operatori ma ci sono anche piccoli proprietari che insomma hanno anche tutto sommato il diritto di gestire i propri appartamenti e così via pensi che a Barcellona questo equilibrio fra un modello sostenibile e le opportunità date dal turismo sia stato raggiunto? È molto difficile cioè dai tempi dell'antica Grecia l'equilibrio è proprio la virtù più desiderata da ognuno di noi a livello individuale e collettivo è probabilmente la più difficile da raggiungere stiamo tutta la vita cercando l'equilibrio in tutti i sensi quindi anche per una città grande complessa densa come Barcellona sembra un'utopia di raggiungere l'equilibrio siamo più vicini a raggiungere l'equilibrio di alcuni anni fa però la lotta continua lì c'è comunque il conflitto per esempio perché il partito socialista che adesso governa sia nel comune che nel governo della regione da una parte dice che bisogna chiudere gli appartamenti brevi di affitto breve e allo stesso tempo dice che vuole fare un allargamento dell'aeroporto per avere 20 milioni di più di passaggeri all'anno dove li metti? 20 milioni di più l'anno cioè è una follia cioè stiamo dicendo che non ci stiamo più e tu vuoi fare un aeroporto che adesso ha 50 milioni di passaggeri all'anno per portarlo a 70 milioni all'anno è una contraddizione secondo me lì c'è il dibattito di ogni città il modello di ogni città però c'è una questione più generale più strutturante non ha a che fare soltanto con il modello di gestione nel territorio del turismo ed è ovvio il territorio è un posto limitato per definizione è un posto fisico materiale e quindi ha dei limiti e questi limiti bisogna aggiungerli nella proiettazione nella pianificazione e finora non si faceva e quindi dobbiamo introdurre il concetto di limite nella politica pubblica questo da una parte nella gestione del turismo così come in altri settori dall'altra parte bisogna fare una riflessione più globale che va al di là della situazione concreta di ogni città e lo stiamo vedendo cioè il cambiamento climatico è una realtà non è più una prospettiva di futuro la stiamo subendo sempre di più con situazioni più estreme di caldo infernale o di piogge come è appena successo in Spagna è successo anche in Italia succede sempre più spesso quindi dobbiamo avvassare la temperatura del pianeta e quindi questo modello generale di muoversi costantemente e tutti dappertutto è sostenibile io direi di no e quindi questo non è un problema di un singolo cittadino di una singola città di un unico paese è un problema collettivo dove bisogna fare una riflessione e ovviamente sono contraria a una visione elitista del turismo cioè lo facciamo più caro e quindi solo i ricchi viaggiano sono contraria a questa idea bisogna difendere un modello democratico però questo modello democratico secondo me bisogna introdurre il concetto di sostenibilità e il modello globale di iperturismo non è più sostenibile e quindi bisogna viaggiare di meno questo mi sembra chiaro in ogni continente non soltanto a Barcellona questa sarà una brutta notizia per un sacco di persone no no ma viaggiare è bellissimo però per esempio viaggiare più vicino e farlo con mezzi come il treno e non con l'aereo bisogna ripensare un po' i nostri rispostamenti globali perché è ovvio che così non andiamo bene cioè che il pianeta non regge più a proposito di equilibri non del tutto raggiunti o non ancora raggiunti Barcellona nove anni dopo la tua elezione rimane una delle città più care della Spagna no se non sbaglio è la seconda città più cara della Spagna dopo San Sebastián che però è una cittadina più piccola 180.000 abitanti il costo delle case medio a Barcellona è più di 4.000 euro al metro quadrato per dare mi sono tirato giù i dati per dare dei termini di paragone a Milano e le case costano di più costano più di 5.000 euro al metro quadrato a Roma costano circa 3.300 euro al metro quadrato pensi che avresti potuto fare di più pensi di aver sbagliato qualcosa ma in realtà adesso cominciamo a vedere l'effetto di una nuova legge che si è stata fatta in Spagna perché è quello che dicevo prima che le leggi le può fare solo lo Stato non le possiamo farle in comune da quando sono arrivata come sindaca se guardi su Google vedrai che dal 2016 ho fatto 50.000 iniziative conferenze stampa chiedendo allo Stato di regolare gli affitti perché Barcellona ha un 40% di affitto che è un promedio superiore alla media nazionale e vedevamo quel problema lì che dopo i mutui arrivava la bolla degli affitti perché era il business e non c'era nessun limite non c'era nessuna legge per controllare quella speculazione e le leggi le fa lo Stato e quindi noi abbiamo insistito tantissimo lo Stato e finalmente questa legge è arrivata abbiamo fatto fatica però finalmente la legge è arrivata e adesso stiamo iniziando a applicare questa legge che di nuovo ha bisogno di una volontà politica perché se tu non metti il controllo l'ispezione la multa la legge non si porta alla realtà questo da una parte che adesso dovrebbe sentirsi l'effetto di questa legge dall'altra io sono contenta perché a livello di politica della casa abbiamo fatto tantissime misure che quando ero attivista e lo chiedevo al comune mi dicevano che non si potevano fare le abbiamo fatte abbiamo fatto tante cose che ci dicevano che erano impossibili e questo è diventato un riferimento per tante altre città ma soprattutto direi se il governo regionale e il governo dello Stato oggi facessero le stesse iniziative con la stessa ambizione che ha fatto Barcellona negli ultimi otto anni si poteva risolvere l'argomento della casa il problema della casa quindi abbiamo dimostrato che si poteva fare molto di più è vero che da solo un comune non può risolvere la questione della casa perché dipende da leggi che fa lo Stato e ciò nonostante abbiamo fatto più affitti sociali che mai migliaia di affitti di appartamenti pubblici abbiamo creato una nuova politica di cooperative per cui non solo il comune fa le case che da solo noi abbiamo trovato un numero di case popolari del comune che era inferiore all'1% del totale delle case di Barcellona quindi con quello puoi fare casi nulla e quindi abbiamo investito tanti soldi abbiamo cambiato le priorità abbiamo fatto migliaia di appartamenti nuovi però non basta con l'iniziativa pubblica hai bisogno di la partecipazione di altri attori e quindi abbiamo creato questa politica delle cooperative imparando anche le iniziative per esempio della Latinoamerica abbiamo creato un operatore metropolitano e una nuova forma di collaborazione pubblico privata perché la collaborazione pubblico privata che si faceva prima era che il comune regalava il suolo urbano e il privato faceva gli appartamenti e faceva il business e noi abbiamo detto no adesso cambiamo questo modello di collaborazione pubblico privata facciamo un'azienda metropolitana dove il pubblico ha il 51% e per concorso si sceglie le aziende che faranno costruiranno questi appartamenti quindi c'è una collaborazione pubblico privata però con un guadagno limitato per fare solo l'affitto non la proprietà perché con risorse pubbliche noi capiamo che bisogna fare l'affitto non la proprietà perché se no viene privatizzato una cosa che è stata fatta con soldi pubblici e poi questi affitti li gestiscono queste aziende però con le regole che fissa il comune con questo facciamo 4.000 appartamenti in più che è in un regime che non è né la casa popolare di affitto sociale né anche il libero mercato ma un intermezzo e così abbiamo fatto tantissime iniziative di innovazione che se insisto se questo sforzo si scala e si fa allo stesso livello nel governo regionale e a livello dello Stato sarebbe un salto un cambio di paradigma che saremmo vicini a risolvere il problema della casa Tu sei stata la prima sindaca donna di Barcellona Sì Uno dei simboli della tua attività politica è il fatto che hai sempre sostenuto che la politica dovrebbe femminizzarsi e tu vuoi che Barcellona anzi sei convinta che Barcellona sia una città femminista vorrei chiederti però una cosa un po' più laterale che è il fatto che adesso sto andando un po' a memoria però ovviamente la tua elezione non è stata molto commentata anche in Italia no perché Barcellona è una città che gli italiani conoscono bene pieno di italiani che visitano Barcellona vivono a Barcellona e quindi quando fu eletta una sindaca a Barcellona che voleva farsi chiamare sindaca e non sindaco io ricordo che ci furono alcune reazioni stranite perché nel 2015 era ancora un po' esotica questa cosa in Italia io ricordo alcuni articoli di giorni di destra che dicevano che cosa vuole dove andremo a finire adesso che vogliono farsi chiamare sindaca poi negli anni successivi sono arrivate Virginia Raggi Chiara Appendino la cosa è stata più sdoganata adesso è normale hai avuto delle esperienze così anche anche in Spagna sì alcune molto belle cioè ho scoperto sapevo l'importanza del linguaggio sapevo l'importanza che ci siano riferimenti visibili no per i diversi collettivi però l'ho vissuto in prima persona ed è stato davvero importante per me non sono non solo sono stata la prima sindaca donna lo dico sempre sono stata la prima donna sindaca attivista di famiglia di diciamo lavoratori che non conoscevano a nessuno dell'elite della città questa è la prima volta che succedeva perché di solito si conoscono tutti tra di loro o le famiglie o comunque io ero la prima che arrivavo lì e i signori che mi andavano sempre a Barcellona non mi avevano mai vista in nessuna festa in nessuna cena in nessun evento quindi anche questo era una novità e poi anche bisessuale e questo l'ho detto perché ho scoperto l'importanza della visibilità perché questo è capitato mi ricordo anche in un programma di televisione che l'ho spiegato così perché mi hanno fatto una domanda e non pensavo di fare una cosa eccezionale e ho raccontato che ho avuto dei fidanzati delle fidanzate e poi ho scoperto l'importanza di questo per quante donne soprattutto donne anziane anche che mi hanno abbracciato per strada dicendo quanto importante era stato ascoltare questo in televisione e con il fatto di essere donna mi è successa la stessa cosa la prima cosa è che teoricamente Barcellona è una città moderna democratica innovativa che è stata sempre all'avanguarda e comunque io mi sono trovata con tutti i commenti maschilisti tradizionali anche di politici di intellettuali addirittura che mi hanno detto che io dovevo vendere le verdure dovevo vendere il pesce dovevo fare la pulizia cioè mi hanno detto che dovevo fare un sacco di lavori che per loro sembra non sono dignitosi per me sono tutti fondamentali perché tutti abbiamo bisogno di mangiare di essere puliti però comunque me lo dicevano come che io non ero all'altezza che questo ruolo non era per me e quindi me ne ho fatto sentire un'intrusa spesso però poi ho scoperto anche l'importanza di questa visibilità per le bambine è stato bellissimo che tante bambine mi hanno fermato per strada e non mi hanno chiesto mi hanno detto io farò la sindaca così come affermazione è bello questo perché è vero se tu vedi una donna normale comune che fa la sindaca ti sembra normale anche tu fare la sindaca se non la vedi mai è più difficile che ti venga in mente di fare la sindaca poi spiego sempre una battuta molto simpatica che nello stesso periodo in cui io sono diventata sindaca poi io avevo un bambino piccolo che aveva 4 anni in quel momento e poi ho fatto un secondo bambino nel 17 e il primo bambino quando io sono arrivata e ho fatto la sindaca lui aveva 4 anni e in quel periodo in televisione c'erano questi fumetti come si chiamano la patruglia canina non so i cani che fanno i poliziotti penso che sia secondo me in Italia li abbiamo ancora in inglese pop patrol qualcosa del genere sì questi qua e lì c'è una sindaca anche e quindi il mio bambino come tanti altri bambini vedeva in televisione una sindaca nel pop patrol questi e poi a Barcellona c'era una sindaca quindi per lui la normalità era che ci fosse una sindaca non conosceva la realtà di avere un sindaco è stato molto simpatico perché è arrivato l'estate e noi andavamo in vacanza in famiglia il mio bambino mi ha chiesto ma mamma quando noi andiamo in vacanza come sarebbe in italiano una traduzione perché cioè alcaldessa sarebbe il femminile in spagnolo alcalde e in maschile e lui mi ha chiesto chi farà di alcaldesso perché per lui il nome generico era alcaldessa non era alcalde e quindi qui vedi l'importanza del linguaggio perché per lui la cosa più naturale era cercare il maschile a partire del femminile perché non aveva conosciuto un sindaco ma in vita sua in quattro anni di vita che aveva questo può sembrare una battuta minore però ti dimostra che effettivamente avere i riferimenti e essere consapevole del linguaggio non è una cosa minore che poi crea realtà alle elezioni municipali dell'anno scorso nel 2023 non sei riuscita a farti riconfermare sindaca per un terzo mandato le elezioni sono state particolari diciamo ci sono stati tre partiti cioè Junts di centrodestra un partito secessionista il partito socialista e Barcellona in Comù che è il movimento di cui di cui tu fai parte che sono arrivati più o meno tutti alla pari tra il 22 e il 19% e alla fine appunto è riuscito a diventare sindaco Jaume Colboni il socialista con un voto di fiducia a cui ha partecipato anche Barcellona in Comù tu sei rimasta per un anno circa poco meno dentro al consiglio comunale e poi di recente proprio poche settimane fa a fine ottobre ti sei dimessa e hai annunciato che almeno per ora lascerai la politica attiva ora tu sei una delle politiche più note in Spagna ma tendenzialmente anche in Europa e sappiamo sia perché lo hanno scritto i giornali spagnoli sia perché qualche volta l'hai detto tu stessa in interviste in interventi che avresti avuto la possibilità di fare il salto verso la politica nazionale o anche verso la politica europea per cui diventare ministra della Spagna o diventare europarlamentare invece sei sempre rimasta nella dimensione cittadina sei sempre rimasta a Barcellona perché? se tu guardi il mio percorso creda che sia coerente si può capire il perché cioè io non ho fatto mai la professionista della politica non avevo mai partecipato a un partito politico in vita mia come dicevo ho fatto tanti lavori diversi ho studiato filosofia e ho fatto l'attivista per tanti anni e per una situazione molto particolare ho accettato di farla candidata e farla sindaca per questi otto anni perché c'era un'esperienza che per me valeva la pena di innovazione democratica che diceva non funziona bene la politica oggi quindi non è che mi presento solo per occupare il posto di sindaca invece di farlo un altro e io dico che sarò più onesta o sarò più sociale nelle mie politiche no no c'è un problema proprio strutturale nella politica i cittadini sono sempre più lontani e quindi bisogna innovare e in qualche modo rinfrescare e rinforzare la democrazia che è fragile e che è molto imperfetta e quindi è da questa esperienza qui che io arrivo al comune e in questo periodo la situazione è peggiorata cioè abbiamo vissuto tante situazioni nella Catalogna specifiche per la questione dell'indipendenza una tensione politica pazzesca una polarizzazione che è stata per ragioni locali ma anche globali come vediamo adesso con Milley con Trump e con tanti altri quindi una polarizzazione le fake news anche questo quando dicevi che il risultato in effetti è stato molto molto giusto con il partito socialista abbiamo preso 131 mil voti entrambi e loro hanno preso solo 300 voti in più e solo per quei 300 voti lui è sindaco io non faccio la sindaca quindi è una differenza davvero piccola e bisogna tener conto che noi abbiamo subito una campagna di fake news di lawfare come non si era mai vista nel comune di Barcellona siccome noi abbiamo toccato alcuni interessi concreti della città ci hanno fatto delle cause nei tribunali che poi finiscono in nulla tutte archiviate però nel frattempo fanno un sacco di rumore ti portano in tribunale ti fanno dichiarare e con tutto questo casino per poco non siamo riusciti a mantenere il governo della città quindi tenendo conto di questa situazione eccezionale e vedendo anche che c'è una tendenza che è globale che non è soltanto a Barcellona questa polarizzazione questo discorso dell'odio questa questa egemonia della destra bisogna dirlo chiaramente quindi anche ci saranno stati degli errori in generale delle sinistre del mondo progressista secondo me è un momento per fermarsi un po' e fare un po' di riflessione anche autocritica perché secondo me si vede chiaramente che non basta arrivare a un governo sia in città o anche nel governo della Spagna o anche in Europa non basta arrivare a fare delle politiche utili delle politiche sociali per esempio per le persone che hanno più bisogno che nel governo della Spagna per esempio secondo me si è fatto chiaramente però si vede che non basta che le politiche non sono solo ragioni e misure concrete sono anche emozioni sono narrazioni sono speranze qual è la proposta di futuro in un mondo distopico pieno di crisi economiche dove c'è sempre più disuguaglianza dove c'è il cambiamento climatico che sembra che non ci sia futuro per i nostri bambini in questa situazione così con l'estrema destra qual è la proposta dell'ambito progressista nel senso più generale secondo me non basta con parlare di fare le politiche dei diritti del lavoro le politiche sociali le politiche delle case bisogna pensare dove vogliamo andare qual è la speranza concreta che possiamo costruire e anche parlare dei desideri parlare delle cose positive della vita e non stare solo a fare i discorsi moralisti paternalisti che secondo me la sinistra troppo spesso quando sta in una situazione di governo tende a riprodurre quindi secondo me bisogna fermarsi bisogna riflettere bisogna leggere bisogna pensare delle idee nuove in questo senso per me era chiaro che io adesso non volevo passare da fare la sindaca a fare la ministra non voglio rimanere nell'istituzione per inerzia io voglio fare delle cose buone trasformare la vita e migliorarle insieme agli altri cittadini e per fare questo secondo me è adesso un periodo critico in cui bisogna forse uscire un po' dall'istituzione e cercare anche delle risposte fuori dall'istituzione parliamo appunto di questo tu ti sei dimessa dal consiglio comunale poche settimane fa letteralmente per cui immagino che la tua riflessione sia appena cominciata però al tempo stesso parlavi di una tendenza globale e di un'egemonia della destra prendiamo per esempio le elezioni negli Stati Uniti dove Donald Trump è stato votato dal suo elettorato certamente ma anche da una parte consistente di elettorato che tradizionalmente era della sinistra Donald Trump ha ottenuto più voti di Kamala Harris tra le persone con un titolo di studio più basso ha ottenuto molti voti tra la classe lavoratrice ha ottenuto molti voti tra le persone più povere in un sacco di stati nel Midwest e così via questo fenomeno lo stiamo vedendo anche in altre parti d'Europa in Germania nella parte est del paese che è quella più povera l'estrema destra va fortissimo ci sono fenomeni simili in Spagna in Italia e così via che cosa sta succedendo perché la destra guadagna i voti che tradizionalmente sono di sinistra secondo me è un momento di riflessione autocritica per l'area progressista perché secondo me appunto il mondo è cambiato e non basta dire solo che diciamo l'estrema destra usa i social media le fake news e che hanno Elon Musk e che quindi con questo hanno manipolato i cittadini non è vero non basta con questo l'abbiamo vissuto anche in Spagna nella pandemia mi ricordo il governo della destra della regione di Madrid ha fatto una gestione pessima nel concreto che ha provocato la morte di migliaia di anziani per esempio e però non ha avuto delle conseguenze elettorali perché la destra è stata molto più intelligente appunto nella narrazione nel parlare alla gente della voglia di vivere in un momento in cui sembrava che tutti dovevano restare a casa e morire o per il covid o per la tristezza e la destra è stata molto più brava a non avere i complessi a fare una narrazione che parlava direttamente agli affetti ai desideri della popolazione quello è un esempio però secondo me al di là delle situazioni concrete e specifiche di ogni realtà ci sono degli elementi comuni dove secondo me dobbiamo riflettere seriamente in modo autocritico senza paura a fare l'autocritica e ho ascoltato anche il vostro podcast sulle lezioni americane mi sembrava molto molto interessante perché appunto avete anche dato questa idea della complessità che non esiste un'unica spiegazione un unico elemento ci sono tanti elementi diversi per esempio la spiegazione di come gli uomini latini avevano votato più come uomini che si sentivano attaccati che come latini sono tante le cose che bisogna rivedere però appunto secondo me la sinistra storicamente tende a fare questo errore che è pensare che basta con avere la ragione e non basta con avere la ragione anche se hai i dati anche se hai le politiche concrete che possono dare più soddisfazione ai bisogni concreti della maggior parte della popolazione e dare una risposta concreta alle persone che sono più in difficoltà questo è necessario però non basta con la ragione bisogna anche fare attenzione all'emozione al desiderio e alla prospettiva di un futuro migliore e quindi secondo me su questo c'è tanto lavoro da fare Nel 2019 assieme ad altri autori hai scritto un libro in inglese peraltro intitolato Fearless Cities Città senza paura in cui invocavi tra le altre cose la creazione di un movimento municipalista globale che cosa significa? Secondo me in un momento dove la stessa idea di democrazia è messa a crisi perché la destra proprio sta cercando di svuotare la democrazia formale per dire questo non serve e quindi lasciamo fare al mercato come Emilei per esempio che arriva al governo dicendo eliminerò il ministero dell'educazione pubblica eliminerò il ministero della sanità pubblica che sembra che è una cosa che va contro il senso comune e l'interesse generale della popolazione e invece ha vinto le elezioni e quindi insisto di fronte a questo che non è un'eccezione ma proprio una tendenza globale che è organizzata con tanti soldi dietro bisogna organizzare anche una proposta internazionale che non sia solo una contraposizione al modello della destra ma che sia una proposta in positivo e secondo me il municipalismo ha questa potenzialità di riprendersi la vita comunitaria dalla vicinanza dalla vita in comune che facciamo nella nostra città di fronte ai discorsi che cercano di vedere nemici nei nostri vecini di confrontarci migranti con locali di fronte a questi discorsi che cercano di dividere la popolazione secondo me la città è il luogo il territorio naturale dove smontare questi pregiudizi e dove dimostrarci che insieme possiamo fare delle cose meglio possiamo fare delle cose belle e quindi secondo me questo potenziale della vita democratica nella città di rifare di ripensare la vita democratica dall'esperienza quotidiana della vita nella città è un potenziale che però ha bisogno anche del livello internazionale che solo con la politica che puoi fare in città non ce la fai affrontare tutte le grandi sfide globali e quindi questa doppia dimensione della vita quotidiana in città le politiche concrete che si possono materializzare e cambiare le vite concretamente delle persone e allo stesso tempo questa dimensione internazionale di solidarietà anche di scambio di esperienze di individuare anche gli ostacoli e le sfide comuni tra tutte queste esperienze ha un potenziale enorme per rifare per ripensare per migliorare le nostre democrazie e io cercherò di aiutare su questo livello e questo vale anche questo libro del 2019 vale anche dopo che c'è stata una pandemia globale vale anche dopo che c'è stato un fenomeno globale come l'inflazione che ha colpito tantissimo anche soprattutto le forze di sinistra come dire davanti a vale in un momento di profonda crisi della globalizzazione cioè davanti a questi fenomeni globali secondo te la risposta deve essere più locale non soltanto locale come dico ci deve essere questa dimensione globale internazionale però secondo me il locale ha questa forza di mettere il corpo il proprio corpo la propria vita questa forza non ce l'ha nessun altro livello politico e secondo me una delle cose che mette più in difficoltà alla sinistra l'area progressista per ricreare un desiderio di rifare politica e di convincerci che abbiamo un'alternativa una proposta di futuro è proprio questa sensazione di solitudine dei cittadini in ogni città che di fronte a queste enormi sfide globali che non sono nelle nostre mani perché il cambiamento climatico l'economia globale le guerre sembra che tutto sono dei mostri che non sai da dove cominciare per cambiare le cose di fronte a questa sensazione di solitudine individuale che non c'è niente da fare e quindi rassegnazione ognuno cerca di sopravvivere come può di fronte a questa sensazione e sentimento secondo me bisogna ricostruire questa vita in comune in cui se ci mettiamo assieme possiamo cambiare le cose e ricreare questa esperienza della politica concreta dove effettivamente se ci mettiamo assieme possiamo fare delle cose che ci dicevano impossibili dove si può fare meglio nel proprio spazio di vita quotidiana nelle città però sempre ovviamente con questa dimensione internazionale prima dicevi che le forze progressiste dovrebbero dare una prospettiva di un futuro migliore per tutti ci puoi fare un esempio pratico di cosa significa un futuro migliore per tutti secondo me sono delle cose molto basiche se parliamo delle misure concrete parliamo appunto di siamo tutti d'accordo in essere in una società di mercato però un discorso è essere in una società di mercato un altro discorso è che abbiamo consentito negli ultimi anni che si mercantilizzi i diritti umani e quindi questioni fondamentali per la vita delle persone come l'acqua come la casa come il cibo se questo viene regolato soltanto per la legge del mercato tutti sappiamo cosa succede la speculazione è una disuguaglienza che cresce anno dopo anno quindi riprendersi i beni comuni è una gestione comunitaria pubblica delle questioni fondamentali per la vita difendere i servizi pubblici forti per garantire le pari opportunità l'educazione la cultura la sanità difendere le fondamente dello stato sociale democratico oggi è una questione minima da difendere però insisto da una parte ci sono le misure i servizi pubblici i diritti fondamentali la pace anche in un mondo in cui si parla sempre di guerra secondo me non ci possiamo rassegnare perché io sono convinta che la maggior parte della popolazione e dell'umanità vogliamo la pace il 99% dell'umanità vuole vivere in pace non vuole vivere in guerra invece ci sono quattro signori che hanno le industrie della guerra che riescono ad avere il potere che ci siano le guerre e non finiscano più anzi vediamo l'Ucraina che va avanti e vediamo quello che sta succedendo in Palestina quindi però la maggior parte dell'umanità non vuole questo e invece succede come ci riprendiamo il potere collettivo con questo per affrontare questo dobbiamo fare una narrazione dove di nuovo ci sia questa idea di collettività e questa idea fondamentale minima della democrazia che insieme gli individui sono più forti che da soli e per questo bisogna creare un'esperienza della politica non basta solo con le idee o le proposte intellettuali o accademiche bisogna creare delle situazioni concrete delle esperienze concrete che ci dimostrano questo io questo dove più imparato è nella mia esperienza come attivista nei movimenti sociali prima parlavi della nostra esperienza della piattaforma dei mutui e lì quando noi abbiamo cominciato a organizzare c'erano migliaia e migliaia di sfratti e nessuno ne parlava nei partiti politici nei media nessuno ne parlava non esisteva erano centinaia di migliaia di famiglie che erano nella disgrazia più assoluta perdevano la casa mantenevano il debito cioè una situazione di morte civile con suicidi situazioni di alcolismo una situazione davvero tragica e non ne parlava nessuno perché c'era una situazione di vergogna sociale in un mondo in cui tutto si spiega a livello individuale se hai successo grazie al tuo sforzo se hai un fallimento è perché sei un inutile e tutto si spiega solo a livello individuale invece non è così c'è una dimensione collettiva che ci dovevamo riprendere noi quando nell'attivismo abbiamo ripreso questa dimensione collettiva siamo riusciti a fare delle cose che sembravano impensabili per esempio forzare le banche a offrire le affitti sociali e a risolvere migliaia di situazioni quindi si può fare però bisogna riprendersi questa esperienza collettiva della democrazia che ci dimostra che abbiamo più poteri di quello che pensavamo Prima di arrivare ai consigli vi faccio due segnalazioni anzitutto Ada Colau si trova a Milano proprio in questi giorni per partecipare il 26 novembre alla serata inaugurale di About a City un festival sulle città organizzato dalla fondazione Gian Giacomo Feltrinelli la potete incontrare lì e potete sentirla di persona in secondo luogo questa conversazione diciamo che arriva accoppiata assieme a un articolo scritto sul post sul sito che si intitola perché sull'iperturismo tutti guardano Barcellona che è un articolo scritto da una mia collega Viola Stefanello in cui parliamo appunto di cosa è successo a Barcellona e cerchiamo di andare un po' a fondo di queste questioni e adesso Ada Colau ti chiedo tre consigli libri, film, podcast serie tv musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire è sempre difficile questa domanda di scegli un'unica musica un unico libro è molto difficile però io direi almeno siccome abbiamo parlato abbastanza di Barcellona su Barcellona io consiglio molto un libro che non è nuovo tanti anni che si chiama La ciudad de los prodigios di Eduardo Mendoza che è un romanzo e che spiega una delle trasformazioni più importanti che ha fatto la città però spiega Barcellona in un modo in cui ti innamori della città quindi consiglio molto La ciudad de los prodigios di Eduardo Mendoza poi se andiamo sulla questione della musica è molto difficile scegliere una però siccome noi abbiamo il catalano che è una lingua che non si conosce tanto all'estero però è molto bella consiglio una canzone che si chiama La gente che stimo che vuol dire le persone a cui voglio venire che questa è di un gruppo di pochi anni fa Ocas Grasas è una canzone straordinariamente bella e molto e ispira moltissimo amore quindi questo anche è un consiglio così più generico io direi che bisogna organizzare la tenerezza e bisogna tener cura delle amicizie questo è importantissimo in qualsiasi situazione della vita in cui uno si trova a qualsiasi età organizzare sempre la tenerezza e tener cura degli amici ad Accolau grazie piacere davvero un piacere grazie a tutti grazie a tutti